Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, sappiate che oggi mi trasformerò in boomer, o forse già lo sono ma non me ne sono ancora reso conto, perché voglio parlarvi proprio come un vecchio rompicoglione di chi? Di Zlatan Ibrahimovic e iShowSpeed. Ma ve ne parlerò tra poco. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di sostenere questo canale con un like. Mi raccomando, fatelo, non vi costa nulla e per me è una cosa molto molto importante. Prima di parlare del duetto, dello show, tutto ciò che si è creato intorno a Ibra e ai ShowSpeed, per chi non lo conoscesse, uno degli streamer, uno degli youtuber più famosi al mondo, vorrei parlarvi di altro. Poi sul finale mi innervosisco e parlo di quella roba lì. Allora, innanzitutto, ragazzi, mi hanno fatto ridere che ieri, a fine partita tra Spagna e Francia, c'è stata un'invasione di campo. Gli Stewart, per cercare di fermare l'invasore, involontariamente uno di loro ha fatto una scivolata, un tackle incredibile e ha colpito un giocatore. C'erano mille persone in campo e chi ha colpito? Alvaro Morata. E questo è meraviglioso. E questo è meraviglioso, ragazzi, direi che è pronto per il Milan, un infortunio prima dell'annuncio ufficiale. È veramente una ciliegina sulla torta incredibile. Spero, a prescindere che venga il Milan o meno, che non si sia fatto nulla di male, perché saltare la finale dell'europeo, perché uno Stewart ti stende, sarebbe veramente un avvenimento tragicomico. Speriamo di lui, ovviamente, per lui che non sia nulla di grave. Poi parlavo, ragazzi, ragionavo prima sul calciomercato del Milan. Come vi ho già detto qualche tempo fa, una settimana fa, sono andato a ripescarmi un po' le date ufficiali dei vecchi acquisti del Milan dello scorso anno. Quindi, ad oggi, 10 luglio, cosa avevamo fatto un anno fa? Al 10 luglio 2023, chi erano gli acquisti del Milan? Sostanzialmente due. Vale a dire, Loftucic e Luca Romero. Poi, da lì a poco, il 13, se non sbaglio, venne preso anche Pulisic. Quindi, siamo sicuramente in ritardo, perlomeno rispetto allo scorso anno, e devo dire che siamo anche in ritardo rispetto alle altre squadre. Ah, poi, altra cosa che mi lascio un po' basito, è la fatica che facciamo per prendere un cazzo di giocatore. Cioè, io posso capire zir se, posso capire zir se, che dici, vabbò, è ambito, lo vogliono, anche se poi, in realtà, non è che c'è la tutta staresa per prendersi zir se, però vabbè, ci abbiamo messo più tempo del previsto, abbiamo provato in tutti i modi, non siamo riusciti, commissioni, cazzi vari, ok. Ma quello che mi lascia stupito è la difficoltà nel prendere Emerson Royale. Cioè, con tutto il bene per Emerson Royale, ma non siamo riusciti a concludere una trattativa che, peraltro, a noi tifosi neanche scalda più di tanto. Ma io dico, possibile che neanche uno come Emerson Royale riusciamo a prendere tranquillamente? C'è sempre un'offerta che è clamorosamente più alta della nostra, della richiesta della squadra che ha il cartellino, e poi non ci si viene mai incontro, non c'è mai un, non si bloccano. Sono tutte stagnate le trattative del Milan e questa cosa qua. Mi lascia davvero perplesso. Poi, prima di parlare di iShowSpeed e Ibrahimovic, volevo un attimino, perché ora sono sempre critico con la società, soprattutto quando le cose non vanno bene, però lasciatemi spezzare una lancia a favore di Milan Futura. A parte che per me è un progetto importantissimo, e ditemi se volete che, insomma, io lo seguo, per seguire lo seguirò a prescindere dal vostro volere, però se volete io posso portare anche dei contenuti dove magari andiamo a sbirciare un po' all'interno di Milan Futura e capiamo come si stanno muovendo i giovani del Milan. E a proposito di giovani, ci sono state tante critiche per l'acquisto di Longo, ex giocatore dell'Inter, eterna promessa mai sbocciata, che è andato in prestito a destra a manca per anni e anni senza mai esplodere. Molti hanno iniziato a dire, ma com'è possibile? Il Milan Futuro deve essere pieno di giovani, talenti da portare in prima squadra, ma lui è grande, è over 30. Senta ragazzi, si gioca in Serie C, voi volete fare una squadra Milan Futuro solo con giocatori giovani, under 20, under 21, under 22, under 23? E' ovvio che serve anche qualche figura di riferimento un po' più esperta, che abbia già calcato quei campi, che ne sappia un po' di più, che abbia una corazza un po' più forte, altrimenti ragazzi non si lavora bene, quindi non mi stupisce il fatto che il Milan abbia preso un giocatore come Longo, che è grande, ci sta assolutamente. Qui sapete che se c'è da criticare, io sono il primo, ma in questo caso obiettivamente no. Peraltro, non ho commentato poi l'altra volta, qui ci uniamo poi al discorso di Ibrahimovic, come dire, la scelta del Milan di mandare Orighi e Balloturè nel under 23. Cioè che lì per lì è passata quasi in sordina questa roba qua, uno ci fa una risatina e finisce lì. Quindi, ma se ci pensate, un conte dire, vabbè, Orighi andrà, lasciamo stare Balloturè, che forse per lui è anche troppo l'under 23. La cosa che mi ha fatto strano, mi ha fatto riflettere, è dire, porca puttana, questo veniva dal Liverpool, salutato dal Liverpool come una leggenda per il gol in finale di Champions e tutto. Nel Milan ha faticato, ha fatto anche meno schifo di tanti altri, questo va detto, ha giocato tremendamente male, ma meno schifo di altri. Poi va in prestito, fa male, e cavolo, questo si ritrova che c'è Ibra che gli dice praticamente, no, vabbè, Orighi va in Serie C. Perché capite che un conte dire va al Milan futuro, che uno ci pensa e non ci pensa, che poi il Milan futuro è in Serie C. Ma se ci pensate, Orighi, che prende 4 milioni e mezzo, è stato mandato in Serie C. E' bruttissima, secondo me, come cosa. Io non capisco perché ci sia stata sta roba qua nei suoi confronti. Anzi, una è la cosa che mi viene in mente, che magari Orighi sta rifiutando qualsiasi trasferimento, anche se dubito che anche in questo caso ci sia la resta per prenderlo. E quindi per punizione hanno deciso di mandarlo nel Milan futuro, non c'è altra spiegazione, però piuttosto avrei detto Orighi non rientra nei piani di Fonseca, deve cercarsi una soluzione, altrimenti per lui sarà a tribuna. Però dire sta roba qua, lo mandiamo al Milan futuro, che significa mandarli in Serie C, uno che due anni fa giocava in Liverpool, mi è sembrato un'uscita poco... Non da Milan, ok? Non da Milan. Vi ripeto, non voglio difendere Orighi, è un giocatore che non mi piace, che ha fatto male, però secondo me ci vuole anche un po' di tatto. E a livello comunicativo questa cosa non mi è piaciuta. E a proposito di comunicazione, sono rimasto un po' perplesso, un po' basito, e qui esce il brogna vecchio rompicoglioni, per la scelta che ha fatto il Milan, perché non è che Ibra si inventa le cose da solo, di fare ste gag con iShowSpeed. Per chi non lo conoscesse, iShowSpeed, come dicevo prima, è uno degli youtuber più grossi, ha tipo 20-25, non so neanche quanti milioni di iscritti su YouTube, diventato famoso per aver pronunciato male il nome di Cristiano Ronaldo e il verso della sua esultanza. Questa è un'altra storia, incredibile comunque. E' stato praticamente ospitato dal Milan, possiamo dirlo, per chi è andato a San Siro, è andato negli spugliatoi dove ha incontrato Ibra, che gli ha concesso un'ora dalla sua vita. Non lo so ragazzi, io ci sono rimasto un po' così, nel senso che, a parte che bisogna... Ibra è stato sempre così, ok? L'Ibra che abbiamo visto nella live di iShowSpeed è il solito Ibra che sappiamo, il personaggio, tutte quelle robe lì. A parte che personalmente mi ha un po' stancato quel personaggio lì, no? E poi penso che ci sia innanzitutto un ruolo e un ruolo, e poi un momento e un momento. Già quando lo faceva da calciatore, a una certa mi aveva stancato. Adesso però, cavolo, Ibra, sei dirigente, sei un dirigente, non del Milan, ma della società, diciamo così, di Elliot, e quindi è normale che ci si aspetta un atteggiamento un po' diverso. Un po' come è successo nelle conferenze stampa, perché lì io vedo un Ibra diverso. Io lì vedo un Ibra un po' più sottone, e quindi dico, perché lì sei così? E poi invece questo atteggiamento da personaggio, quella roba lì ti è rimasta? Perché non cacci le palle quando c'è da cacciarle? Questo mi lascia molto basito, sinceramente, non so cosa ne pensate voi, fatemelo sapere. Ieri, insomma, iShowSpeed, per chi lo conosce, sa com'è un ragazzino irreverente, che fa della cacciara sempre, hanno fatto diverse gag, alcune discutibili. Cioè io vedere il mio dirigente in macchina con iShowSpeed, fermo cinque minuti immobile, perché quello gli dice il primo che si muove è gay, capite che in questo momento c'è anche no. Cioè Ibra che va a scherzare sul fatto che iShowSpeed sarà il nuovo attaccante del Milan, e lui il Mr. X, anche no. Dani, ma che palle, ma fatti una risata, ma sei un vecchio. Sì, la risata posso anche farmela, anche se non mi faceva ridere, però mi lascia basito. Capite che questa gag, fatta in un altro momento, quando il Milan ha preso Zircè, dico Zircè per dire un attaccante che magari scalda la piazza, con obiettivi di mercato chiari ed evidenti, con un approccio alla nuova stagione diversa, con Conte in panchina, con il mood del tifo alle stelle, quella roba lì la posso anche accettare, la posso anche accettare. Ma in un momento, tra virgolette, non dico negativo, non voglio dire negativo, ma dubbioso, dubbioso, perché c'è qualcuno che non è negativo, quindi è giusto anche non generalizzare. In un momento dubbioso, di difficile gestione, diciamo così, vedere quella roba lì mi lascia un po' così, un po' perplesso. Sono io il boomer vecchio rompicoglioni oppure questa roba qua ci può stare? Mi è sembrata fuori luogo. Un po' come quando Ibra partecipò a Sanremo da calciatore, quando le cose andavano benissimo, non giocava mai, e poi era il primo ad essere sul palco di Sanremo a ridere e scherzare. Sono quelle situazioni che fanno un po' storcere il naso. Stesso discorso, ad esempio, per i video di Ibra, dove è al mare che si butta nell'acqua, eccetera, eccetera. È ovvio, ragazzi, sono persone normali. È giusto che si faccia la sua vacanzina, non dico di no. Però, santo Dio, capisci il momento. Vedi che c'è la curva che è in subbuglio, che non si presenta a Milanello. Vedi che il mood generale è uno dei migliori. Magari evita di mettere la storia. Quello dico. Poi la vacanzina, fattela, ci mancarebbe altro. Non dico di no. Non mi aspetto un Ibra che lavori H24 per il Milan. Parliamoci chiaro. Però, secondo me, alcune situazioni sarebbe bene gestirle, secondo me, in maniera diversa. Oppure vuoi far fare quella roba ad iShowSpeed per vendere più magliette, per mostrare lo store per qualsiasi cosa? Magari, ecco, non mandarci Ibra. Mandaci un altro giocatore. Mandaci un ex giocatore. Capisco che non ha lo stesso appeal mandare Ibra o mandare, che cazzo, ne so, Daniele Massaro. Però, secondo me, sono dei compromessi che poi vanno presi. Perché poi le critiche ci sono. Io ho visto tanti, tanti lamentarsi di questa cosa qua. Io sono il primo. Non dico che mi lamento, però avrei evitato. Poi, partiamo dal presupposto che io sono uno che ama Ibra e a iShowSpeed mi sta molto, molto simpatico. L'ho conosciuto praticamente da pochi mesi e mi sta super simpatico. Quindi non lo sto neanche parlando, come dire, in maniera prevenuta nei loro confronti. Anzi, mi stanno simpatici entrambi. Però lato Milan, quella roba lì, forse, l'avrei evitata. Ditemi cosa ne pensate, signori. Lasciate un like, lasciate un commento. Non so se state apprezzando sta cagata che mi sono inventata. Piacerà solo a me, non l'avrà notata nessuno. Per adesso è tutto, anzi no, c'è la handcard dove vi lascio un po' di video, un po' di situation. Per adesso è tutto, ragazzi. Un saluto dal vostro caro boomer vecchio rompicoglioni. Ciao.